Oggi parliamo del nuovo Mac Mini di casa Apple A fine ottobre Apple ha tenuto il suo secondo evento di presentazione di prodotti Se tutti quanti ci aspettavamo un aggiornamento sui iMac, sulla famiglia degli iMac è arrivato l'aggiornamento che comunque ci aspettavamo sulla famiglia del Mac Mini Ora, famiglia del Mac Mini che è sempre stata considerata il computer entry level perché è un computer piccolino, molto portatile, non molto portatile no, ma è molto piccolo completamente di design, è sempre stato interessante ma mai realmente utilizzato per poter lavorare questo perché era piccolino e le caratteristiche non portavano la possibilità di poterci lavorare ma Apple ci ha fatto una grandissima sorpresa, ha presentato un prodotto davvero interessante e oggi lo diventa sul serio Prima di tutto Apple ha cominciato a strizzare l'occhio verso i geek, verso i nerd perché ha fatto dei passi in avanti che io mi sarei poco aspettato ma ci arriviamo tra un poco diamo un attimo uno sguardo a quello che è questo computer design rimane invariato, forse il colore è diventato lo space grey dell'iMac Pro questo a farci forse capire che questo prodotto è più indirizzato verso i professionisti paradossalmente rispetto al computer di casa perché? Perché per la sua forma e per il suo form factor questo computer può entrare all'interno e può essere assemblato all'interno di render farm o di farm di computer di processore in generale si è questo uno degli utilizzi che Apple ne vanta proprio per la potenza di calcolo che ha inserito all'interno e per una serie di connessioni che adesso vi vado ad elencare allora, prima di tutto, diciamo che questo Mac non è il Mac Entry Level di Mac Entry Level ormai ce ne sono altri c'è l'iMac che è un iMac Entry Level ci sono i MacBook che sono prodotti Entry Level questo non lo è più a mio parere, secondo me, oggi questo prodotto può essere utilizzato tranquillamente in un qualsiasi studio di grafica o montaggio con questa macchina ci si monta tranquillamente abbiamo una nuova fascia di processori installati parliamo naturalmente, partiamo dagli i3, dagli i5 ai i7 variano dai 2, 4 ai 6 core abbiamo la possibilità di installare fino ai 64 GB di RAM questo per esempio non è un aggiornamento che richiederebbe un computer domestico da casa anche perché lo si riconosce con i Mac è un pochino più difficile giocare quindi è un pochino più difficile che un utente che scelga questo tipo di computer ci voglia giocare quindi vuol dire che questa scelta è stata fatta propriamente per i professionisti quindi riuscire ad ampliare quelle che sono le capacità della memoria RAM che, ecco dove si strizza all'occhio iGeek, è possibile sostituire infatti secondo alcune testate online questo Mac è quello che ha ottenuto il punteggio più alto di riparabilità praticamente da soli perché è stato costruito in modo che è possibile disassemblarlo e capergli addirittura la RAM con tantissima facilità cosa che Apple ci dice anche sul sito web ce lo specifica proprio che questa funzione viene fatta per i Geek proprio per strizzargli l'occhio e fare un passetto in più forse un passetto indietro o un passetto in avanti verso quello che è il mondo del modding in questo caso possiamo cambiare soltanto la memoria RAM ma già un passo in avanti se pensiamo che la versione precedente era saldata sulla scheda madre ed ora veniamo alle connessioni va, prima di tutto possiamo dire che possiamo avere un SSD fino a 2TB e fin qui con gli NVMe è una logica che ci sta sono talmente piccoli che possono rientrare in questa forma parliamo di porte abbiamo come sul Macbook praticamente il Macbook da 13 pollici o da 15 pollici porte USB di tipo C Thunderbolt 3 e già con quelle noi ci possiamo far tutto ma questo porta anche due porte USB 3.1 ha una porta HDMI 2.0 e possiamo connettere a questo computer fino a 3 monitor in 4K se non vado errato o 2 monitor in 4K comunque riesce a gestire una mole enorme di dati ed infine ecco cosa mi ha fatto pensare alle render farm oltre al fatto che Apple ce lo dice che c'è la possibilità di installare la scheda di rete con davvero pochi spiccioli in più a 10GB ossia oltre alla porta classica Ethernet 10-100.000 che è quella che troviamo su tutti i computer possiamo installare la 10GB ossia che possiamo navigare fino ai 10.000 Gbps che è tantissimo si utilizza soltanto quando si hanno delle render farm in rete o quando si hanno dei nastri in rete per viaggiare velocemente tra una macchina e l'altra tra un hard disk e l'altro e questa cosa qua mi fa pensare esattamente a quello che vi dicevo io ossia un muro enorme pieno di questi Mac Mini tutti incastrati tra di loro con i nuovi sistemi di ariazione riescono a mantenere il calore e a dissiparlo in posti che neanche potremmo immaginarceli e un'altra cosa interessantissima è che non ha bisogno di alimentazione esterna dell'alimentatore esterno mi spiego meglio ha bisogno dell'alimentazione per andare in corrente normale ma come tutti i Macbook che ora non ho qui a portata di mano portano l'alimentatore grosso praticamente che esce fuori e che va messo in corrente questo no questo porta soltanto il cavo della corrente semplice perché l'alimentatore è all'interno ed è stato miniaturizzato cosa ancora più interessante perché riduce ancora di più gli ingombri di installazione insomma questo computer secondo me è stato pensato per essere utilizzato da professionisti non solo nel campo della creatività della grafica ma anche professionisti nel campo informatico in genere è quindi un pochino meno adatto a quello che quello che sono le possibili quello che è l'utilizzo realmente quotidiano che ne potrebbe fare un utente comune rimane sempre il presupposto che questo computer è comunque bello da vedere e piccolo ha un esame fantastico andiamo al costo sono qui davanti alla pagina di Apple e ad una configurazione diciamo alla configurazione massima che noi possiamo dargli il computer costerebbe 5000 euro che sono tantissimi ma in una configurazione intelligente sfruttabile per poter lavorare stiamo parlando di un Intel Core i7 con 6 core di ottava generazione a 3,2 GHz 32 GB di RAM un SSD da 512 GB la porta a 10 GB perché quella può essere sempre utile viene a un costo di 2589 che non è tantissimo se pensiamo a macchine molto più grandi naturalmente autoassemblate avrebbero super giù lo stesso costo ma sarebbero molto più grandi quindi questo è un piccolo applauso per Apple secondo me Apple sta cambiando leggermente rotta si sta avvicinando molto di più alla modularità ed è per questo che ancora non abbiamo visto il nuovo Mac Pro perché secondo me sarà quasi completamente modulare insomma cos'altro dirvi se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace se avete delle domande potete iscrivermele qui nei commenti non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto seguitemi su tutti i social noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video di iscrivervi al canale di iscrivervi al canale